buonissima ciao ragazze e ciao ragazze e benvenuti in questo nuovo video oggi faccio vedere la pizza in padella che è super semplice e veloce e la cosa bella è che non dovete accendere il funo io già qua ho l'impasto della pasta della pizza che ha fatto Pachito con il nostro video quello là che ha fatto proprio l'impasto come si fa sempre lo stesso impasto si può fare tranquillamente con la farina integrale che è cresciuto vedete ho già ne ho fatta una ora vi faccio vedere come l'ho fatta l'ho messa qua nella padella l'ho girata anche già una volta il pomodorino l'ho fatta cuocere un pochino adesso ci metto il pomodorino questa la facciamo con pomodorino che è pure buona poi ci mettiamo un po' di aglio a pezzettini che è buono però voi dopo dovete stare attenti con chi parlate insomma mi viene un po' di piatella e poi ci metto anche un po' di origano proprio la marinara si esatto la marinara a pomodorino è molto buona e poi la faccio cuocere ancora a coperta pronta in pochi minuti esatto praticamente voi potete fare il classico impasto appunto come vi abbiamo fatto vedere già nel video andate a vedere voi il video eccola qua fallo a vedere come è bella questa pasta è tutta bella lievitata e praticamente è fatta con il lievito in polvere a lenta lievitazione poi quando è pronta la scendete così con il matterello io vi consiglio di non farla troppo doppia l'unica cosa perché comunque in padella la cottura non è mai come nel forno quindi se la fate troppo doppia potete rimanere cruda invece se la fate sottile subito fate subito è pronta allora ungo la padella con un filo d'olio ma comunque è antiaderente poi eccola qua la nostra pizza che ho stesso guardate la metto qua dentro bella sottile così e poi la copro importante deve essere bello coperto in questo modo praticamente si cuoce anche all'interno la pizza questo è il trucco di fare la pizza in padella dovete avere una padella antiaderente con un coperchio a chiusura ermetica ma il più piccolo è più grande non è importanza l'importante è che è chiusura ermetica la faccio cuocere 6-7 minuti più o meno così poi la giro e dopo ci metto anche la roba sopra ma vi faccio vedere è buonissimo la potete fare bianca tipo a focaccia mettendo soltanto un po' di sale un po' di origano di rosmarino col pomodorino col biancottoro e anche con la salsa la mozzarella proprio come la vera pizza scusate ma io ho già mentre cucino mangio adesso andiamo a girare vedete come è cresciuta continua a crescere vedete? guarda come è venuta bella che continua a crescere adesso a questo punto la giro la faccio cuocere giusto qualche minuto proprio poco ho già inizio a preparare il pomodoro da metterlo sopra ci metto un po' di salsa passata io così si inizia a cuocere già da adesso ecco qua il nostro pomodoro un po' di sale e copriamo cosa importante a fiamma bassa coprite e fate cuocere qualche minuto in modo che anche si forma questa cosa di calore si cuoce bene anche il sugo e poi alla fine la mozzarella così la fate sciogliere ho messo anche la mozzarella e adesso continuo a coprire per un altro paio di minuti tagliamo bisogna usare le rotelle adesso ce la mangiamo anche sotto la mozzarella filante buona sera buonissima fatela lasciateci tanti like per questa super ricetta veloce e buonissima vi mando un bacio ciao 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 ciao